Ecco, come promesso in apertura affronteremo in questo primo studio l'argomento legato al marchio Chia e lo faccio molto volentieri con i nostri ospiti, con Giuseppe Bitti, Presidente Amministratore Delegato di Chia Italia. Grazie Giuseppe di essere tornato con noi. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito. E con il collega Alessio Temi. Grazie Alessio anche a te di essere Grazie a te Michele, un saluto a tutti. Abbiamo seguito la vostra iniziativa, l'Electric Day appunto dove avete presentato la vostra strategia per quello che riguarda l'elettrico, come dice appunto il nome e allora vado subito al sodo. Ti chiedo Giuseppe qual è la vostra timeline? L'hai detto tante volte ma magari qualcosa è cambiato da qui a prossimi decenni per quello che riguarda l'elettrico. Ma noi dobbiamo considerare un percorso che è iniziato il 6 gennaio del 2021 che è stato il lancio a livello mondiale del nuovo logo del nostro marchio. Quindi potrebbe sembrare o poteva essere semplicemente una nuova veste grafica ma in realtà rappresenta un profondo cambiamento e una profonda dichiarazione di intenti per quella che vuole essere un po' la posizione, il ruolo di Chia per i prossimi anni partendo da quelli che possono essere gli obiettivi più a breve termine, quindi parliamo di qualche anno fino ad arrivare a qualche decennio. Questo perché innanzitutto il Chia vuole diventare non più un produttore di automobili tradizionale ma diventare un fornitore, un provider di servizi di mobilità sempre più digitalizzati, sempre più elettrificati e sempre più customerizzati, che significa andare sempre più incontro sia da un punto di vista diciamo di prodotto, di automobile ma anche dal punto di vista delle modalità di utilizzo verso quelle che sono le nuove tendenze e le esigenze degli utilizzatori attuali ma soprattutto dei prossimi anni. E quindi da qui è partito diciamo un percorso che si chiama piano S ed è quello che sostanzialmente definisce almeno a partire, diciamo era dal 2021 ma poi chiaramente è un piano quinquennale in divenire, quindi a oggi a quello che è il 2027 che riguarda un po' tutti quelli che sono gli obiettivi sia da un punto di vista industriale, quindi si parla di 14 modelli elettrici nuovi rispetto a quello che Chia era in grado di offrire nel 2021 e poi soprattutto l'evoluzione appunto verso il ruolo di fornitore di servizi di mobilità come ho detto che quindi vedrà nel giro di qualche anno la disponibilità presso le nostre concessionari o presso delle reti che sostanzialmente magari potrebbero anche essere fatte ad hoc di auto Chia con modalità di utilizzo estremamente versatili e differenti. Quindi l'idea è quella di arrivare ad avere un configuratore di mobilità per cui il cliente potrà, l'utilizzatore potrà innanzitutto fare un auto assessment delle proprie esigenze e poi avere da questo sistema la migliore soluzione di utilizzo che può essere un car sharing molto leggero ma ad arrivare perché no non la rileghiamo a quello dell'acquisto tradizionale di un'automobile. Condigandomi anche al fatto che dici prima giustamente che volete essere un marchio aperto a 360 gradi sul mondo dell'automotive, non solo un mero produttore di automobili, siete anche ovviamente sulla strada buono per delle iniziative davvero lodeboli per quello che riguarda appunto la transizione ecologica che non è legata e finisce soltanto allo scarico cioè alla vettura faccio riferimento ad esempio ad una, poi ne avete volte tante in realtà, iniziativa come il Blue Carbon eccetera eccetera. Aiutaci a capire di cosa si tratta poi in questo giudizio volevo coinvolgere anche Alessio in maniera più globale su questi aspetti. Sì perché sostanzialmente l'impegno di Chia non si limita semplicemente a ridurre quello che è l'impatto dell'automobile che noi produciamo e che mettiamo in circolazione sull'ambiente. Quindi dalla fabbricazione, l'utilizzo e lo smaltimento. Ma riteniamo che sia doveroso da un lato coinvolgere quelli che sono i nostri partner no? Sì i produttori diciamo di quelli che sono le componenti dell'auto, di materie prime per esempio l'acciaio no? L'acciaio e il processo per la fabbricazione dell'acciaio implica delle emissioni di CO2 importanti e noi arriveremo ad avere, ad utilizzare tra circa dieci anni il Blue Steel no? L'acciaio che sostanzialmente è carbon free cioè nel senso che ha quasi al 70% in meno di emissioni di anidride carbonica. In più coinvolgere, essere coinvolti direttamente in attività che non sono strettamente legate all'auto. Per esempio c'è questa attività di cui parlavi è quella di operare una rivalutazione di zone paludose vicino ai mari che sostanzialmente consentono con un interscambio che avviene tra diciamo i sedimenti e le alghe e l'acqua del mare di assorbire quelle che sono le emissioni di CO2, c'è un'area in Corea di circa 200 chilometri quadrati dove sostanzialmente si possono assorbire e compensare le emissioni di oltre 100 mila auto in un anno. Ecco, adesso. Sì, no, è chiaro che, ricollegandomi a quello che ci ha appena raccontato Giuseppe, è chiaro che il ruolo di quelle che sono le aziende che operano nel settore autobilistico oggi stanno cambiando, si sta andando in una direzione dove, lo diceva giustamente prima Giuseppe, non c'è più un ruolo legato solo alla mera vendita di un prodotto, ma c'è anche un'offerta importante legata ai servizi che poi probabilmente acquisiranno nel tempo sempre più importanza. Poi il bilanciamento tra il prodotto finale e l'offerta dei servizi bisognerà capire come si andrà a posizionare, quale sarà l'equilibrio futuro, però è chiaro che lo scenario cambia, quindi io credo che poi in realtà sia inevitabile una evoluzione di questo tipo. Non è semplice perché cambiano però anche tanti meccanismi, per esempio il ruolo del concessionario che spesso è stato, come dire, al centro di tante tematiche in questo periodo, ovviamente in una configurazione del mondo auto totalmente differente tra una decina di anni, bisognerà vedere anche come verrà poi riposizionato all'interno di questo settore. Detto questo però, il mio pensiero, legandomi un attimo al discorso di chi è, e quindi ne approfitto anche per fare una domanda a Giuseppe, è, voi avete fatto una grande evoluzione, avete lavorato tantissimo sul design dei vostri prodotti, vi siete ritrovati nel giro di un decennio, ma forse anche di meno, con una gamma totalmente rivisitata, proprio stravolta se vogliamo, perché avete investito tantissimo anche a livello tecnologico, per l'amore del cielo, però voglio dire, la parte di design ha avuto un ruolo sicuramente fondamentale nel vostro cambio di passo. Ora stiamo assistendo a una seconda rivoluzione in casa Kia perché sta arrivando una gamma nella gamma, che è quella delle V6 a cui poi si affiancherà nei prossimi mesi la EV9, chissà poi quali altri programmi secondo quello che ci raccontavi all'inizio. Ora mi chiedo e ti chiedo, è stata una seconda sfida altrettanto fondamentale, come si inserisce nel vostro percorso che avevate iniziato già qualche anno fa e poi se non ci fosse stato l'elettrico, che ruolo avreste avuto? Perché qui vuol dire ripartire un po' da zero. Sì, ma allora per quanto riguarda il design io credo che proprio i V6 abbia espresso quello che è il nostro obiettivo per il futuro, quindi di fatto noi abbiamo proposto un'auto elettrica in un segmento che è premium, perché in un segmento D in Italia e in Europa è un segmento premium, con delle caratteristiche tecnologiche sia per quanto riguarda la parte propulsiva, quindi la ricarica 800 volt, le prestazioni della versione GT, ma anche dal punto di vista della tecnologia a bordo, dell'infotainment e della connettività. Quindi di fatto abbiamo dimostrato che siamo in grado di proporre un'auto con tutti questi requisiti e il design è assolutamente moderno, ha avuto un grande consenso, non dimentichiamo che è stata la prima auto coreana che è stata insegnita col titolo di Car of the Year in Europa, un'auto elettrica e quindi questo non è che l'inizio di un percorso, perché come dicevi tu l'anno prossimo avremo i V9 che è un prodotto che ha forse ancora una mission ancora forse più ambiziosa, perché sarà un SUV di grandi dimensioni sopra i 5 metri con una batteria ancora più esuberante, perché parleremo di 100 kHz, prestazioni paragonabili a quelle delle VCs, 4x4, 7 posti, quindi si va a posizionare una fascia alta del mercato, proprio perché questa è la strada intrapresa, nel senso che sia da un punto di vista di design che da un punto di vista di contenuti l'aspirazione è questa, però rimane, rimarrà sempre comunque come dicevo prima, una gamma più tradizionale che però sarà caratterizzata anche questa da un livello di tecnologia e di elettrificazione che sarà, diciamo, il logico completamento della gamma delle pure elettriche. È una bella sfida. Ho l'intenzione di affrontare dopo questi problemi, ma già che ci siamo, allora ti chiedo Giuseppe, magari di, innanzitutto, vado a memoria, EV6, giusto, o V6, giusto per abballare quello che stavi dicendo, credo che sia anche la prima vettura asiatica a entrare al Museo Internazionale di Torino, no, dell'automobile, o mi sbaglio? No, 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 non ti sbaglio, è proprio una, diciamo che, grazie proprio a quello che si diceva prima, probabilmente il SIGS ha raggiunto un livello di eccellenza, no, che è stato riconosciuto da premi importanti, non solo il COT in Europa, ma di fatto rappresenta veramente un po' una pietra miliare, no, e il Museo dell'Automobile di Torino, che è chiaramente uno dei templi della storia dell'automobilismo, io poi sono di Torino, quindi lo conosco da quando ero bambino, essendo sempre stato un appassionato di automobili, beh, rappresenta molto il fatto che sia lì, anche rappresenta un po' un modo nuovo di comunicare, perché l'auto è esposta, ma con una scultura luminosa che rappresenta un po' la dinamica in forma statica, no, però al di là di questo esprime, la prima auto asiatica lì rappresenta tanto, vuol dire che sia dal punto di vista di design che dal punto di vista della tecnologia, di quello che offre, ha un riconoscimento che va un po', diciamo, al di là di quelle che potevano essere le aspettative. Il fatto che sarà lì sarà lì per sempre e quindi rimane una pietra miliare insieme alle splendide automobili che sono fin dagli inizi del Novecento presenti nel Salone. E V9, hai stuzzicato il nostro interesse, il mio c'è già da tempo, è atteso, è davvero tanto atteso questo SUV, anche da parte della stampa degli addetti ai lavori, dici qualcosa in più, soprattutto quando arriverà anche sul mercato italiano e ricollegandoci al design, è molto coraggioso, molto particolare, soprattutto gli interni, avveniristici, quanto troveremo di tutto questo? Ma io credo, dunque, il piano è quello di avere entro la fine del 2023, quindi avere, diciamo, partire dal mese di ottobre e avere le prime auto disponibili. È chiaro che se fa come i V6, io credo che addirittura abbia delle potenzialità anche superiori, no, perché comunque sarà uno dei pochissimi, probabilmente uno dei primi SUV di queste dimensioni totalmente elettrico, quindi almeno per, diciamo, una buona, quasi un anno. Poi magari verrò, come posso dire, smentito, ma insomma a oggi è così. Quindi di fatto è quel tipo di cliente, cioè chi è interessato a un SUV premium elettrico, credo che veda in V9, o soprattutto c'è il precedente della EV6 con l'auto dell'anno e con la versione GT. Quindi l'interesse sicuramente di un determinato di cliente è molto, molto più, come posso dire, più interessato e credo che possa portare così. Ed è un veicolo che sicuramente ha delle grandissime potenzialità. Tu parlavi del design interno, ma quella che sarà sarà il primo veicolo con il livello di guida autonoma 3, quindi già con un'ulteriore evoluzione. Quindi sarà, questo è un percorso che vedrà in ogni, diciamo, passaggio, quindi in ogni nuova new entry, vedrà negli anni sempre un arricchimento di quelli che sono i contenuti tecnologici, ossia per quanto riguarda l'assistenza e la guida, ma l'infotainment e tutte quelle che sono poi le caratteristiche che sono, diciamo, complementari a quella che poi è la parte novia, cioè la batteria e la propulsione, via dicendo. Mi inserisco un attimo Michele, proprio su questo tema, sicuramente per gli addetti ai lavori, ma non solo, EV9 rappresenta un punto di svolta, perché probabilmente anche proprio a livello di dimensioni, non si è mai assistito fino ad oggi a una vettura di quella caratura, proprio in termini anche di peso, totalmente elettrico, arrivare sul mercato, quindi c'è grande curiosità da questo punto di vista. Sarebbe interessante capire da un esperto del settore che vive proprio dietro le quinte della vendita delle automobili, di tutte quelle che sono le strategie, come si posiziona, all'arrivo di tutti questi modelli nuovi elettrici, come si posizionano i modelli termici o liberi di cielo all'interno della vostra strategia, cioè penso a una Sportage, una Sorento, cioè come gestite questa doppia situazione? Sì, ma io credo che, allora tu hai nominato due modelli che sono fondamentali. Sorento, perché vabbè è stato il primo, diciamo, SUV tanti anni fa che ha un po' aperto il mondo, o chi ha un mondo, diciamo, diverso rispetto a quello che era. Ma parliamo dell'ultima generazione di Sorento che è stata presentata circa un anno e mezzo fa e con tecnologia in Italia solo ibrida e plug-in hybrid. Quindi abbiamo lasciato noi, abbiamo deciso in Italia di trascurare la motorizzazione diesel, non per motivi ecologici, ma perché ritenevamo che fosse il giusto posizionamento, proprio per proporsi a una clientela diversa. Quindi 4x4, 7 posti disponibili, ibrida e plug-in hybrid. E questo ha aperto un mondo, perché ci ha aperto su un altro tipo di... o intanto il design, ci sono molti elementi in comune, si vedono, no? Molti elementi che poi sono stati sviluppati ulteriormente nei modelli successivi. Quindi, secondo me, Sorento è stato il primo passaggio. Poi abbiamo avuto i V6 e poi abbiamo avuto New Sportage. New Sportage, anche qui, rispetto a quelle che era, ricordiamo, quinta generazione, rispetto a quello che era il mondo Sportage precedente, è un'evoluzione molto importante, perché anche qui abbiamo un range di motorizzazioni che sono in grado di, da un lato, di soddisfare quelle che sono, diciamo, le esigenze più tradizionali. Quindi anche si tratta tutte di motorizzazioni che sono assolutamente ecologiche, minimo mild hybrid, poi abbiamo il GPL, che è d'accordo, e poi abbiamo la versione ibrida e plug-in hybrid anche su Sportage. Quindi sono gli stessi powertrain del Sorento e questo ha fatto sì che anche qui una nuova tipologia di cliente si avvicinasse a Sportage. Poi, se guardiamo da un punto di vista, per esempio, del design interno, il layout, lo schermo da 12,7, invece, anche questo crea un denominatore comune con quella che è la gamma elettrica di Kia. Quindi tu vedi i V6 e in Sportage, se tu le metti vicine, noti assolutamente dei particolari stilistici, sia interni che esterni, che esprimono un po' quella che è, diciamo, la nostra visione, che per rispondere alla tua domanda è quella di continuare a sviluppare in parallelo, diciamo, da un lato quelle che sono la famiglia delle 14 auto elettriche, al 100% elettriche, e però poi continuare. È ovvio che il livello di elettrificazione sarà in costante crescita anche per i modelli che manterranno comunque il motore termico. L'evoluzione del mondo elettrico sta avvenendo in maniera molto rapida, poi abbiamo già dibattuto tantissime volte su quanto poi le infrastrutture non siano ancora per tanti versi, soprattutto in Italia pronte, però ti chiedo sempre da chi vive quotidianamente questo tipo di situazione, siamo ancora in una fase in cui l'auto elettrica deve essere considerata una vettura all'interno di una famiglia una seconda auto, una terza, oppure stiamo già entrando in un altro tipo di concetto? Ma secondo me stiamo entrando, è chiaro che se parliamo di grandi numeri, cioè se parliamo di 2035, quindi dove le auto a oggi, se poi non cambiano le normative, tutte le auto dovranno essere elettriche, no? Per essere immatricolati in Europa, quindi è chiaro che questo richiederà una capacità di ricarica assolutamente probabilmente 20 o 50 volte tanto rispetto a quella adesso. Però se guardiamo per esempio l'evoluzione in Italia della distribuzione, innanzitutto non siamo messi così male in Europa perché mi sembra siamo al quinto o sesto posto, ma soprattutto le tre tipologie, quindi diciamo quelle in corrente alternata che sono le più semplici, che sono quelle che garantiscono però una ricarica più lenta, che quella correnti continua, che i supercharger sono comunque almeno raddoppiate, addirittura i supercharger sono quattro volte tanto, 2021 rispetto a 2020. Quindi diciamo che la spinta, il supporto all'elettrificazione, all'analizzazione, è fondamentale chiaramente, così com'è la produzione di energia. Per darvi un'idea, noi per i nostri clienti offriamo questo servizio di Kia Charge che permette di accedere al 99% delle colonnine presenti in Europa, compreso il circuito Ionity, in maniera uniforme, come se fosse un Romi. Ed è chiaro che tutte queste hanno praticamente, utilizzano fonti di energia rinnovabili, quindi che sia eolico, prevalentemente eolico considerando, e quindi già questo è un grosso passo avanti. Però bisogna procedere con l'aumento delle fonti rinnovabili e della disponibilità. Noi dimentichiamo che l'Italia è un paese che dal punto di vista energetico acquistano, noi acquistiamo dai paesi limitrofi perché non abbiamo disponibilità sufficiente di energia. Quindi pensando a una mobilità elettrificata, individuale, massificata, è chiaro che bisogna fare molto di più. Però io credo che la strada sia iniziata. Bene, devo chiudere. Una chiacchierata davvero molto interessante. Abbiamo toccato argomenti altrettanto interessanti, quindi voglio subito ringraziare Giuseppe Vitti, Presidente Amministratore Delegato di Chia Italia. Grazie Giuseppe di essere tornato con noi. Grazie a voi. Naturalmente ringrazio anche Alessio Temi. Grazie Michele, un saluto a tutti. Di essere intervenuto nel nostro studio. Ringrazio voi che ci avete seguiti, però mi raccomando continuate a seguirci perché è safe drive. Non finisci qui, dopo una breve pausa pubblicitaria, il secondo blocco con tanti, davvero tanti ed interessanti servizi. A dopo.